Siamo in compagnia del neosindaco di Catania Salvo Pogliese, una giornata di festa per la coalizione del centrodestra, una vittoria preveribile. Il suo predecessore Enzo Bianco le augura buon lavoro e dice però di non disperdere il lavoro perduto. Cosa è salvabile dell'era bianco e invece cosa deve completamente cambiare la città di Catania? È stato un successo al di là di ogni nostra più rosa aspettativa. Non ci saremmo mai immaginati di doppiare il sindaco uscente con una percentuale di consensi superiore al 51%. È stata una grande attestazione di stima e di affetto di cui prendo atto. Saremo conseguenziali per la nostra città in termini di entusiasmo, di passione e di impegno totalizzante. Qualcosa che è stata fatta in questi ultimi cinque anni per atto è assolutamente mantenuta. Penso all'istanziamento del patto per Catania, ma dobbiamo necessariamente accelerare la spesa, dobbiamo voltare pagina su mille altre tematiche. Basti pensare al tema dei rifiuti, al tema del decoro urbano, della viabilità, dove ritengo di poter dire senza timore di smentita l'esperienza in bianco è stata assolutamente fallimentare. Io sarò il sindaco di tutti, certamente non di una parte che mi ha votato e che mi ha sostenuto. Apriremo il palazzo alla città, a differenza di quello che è stato fatto in questi ultimi cinque anni. Ascolteremo i nostri concittadini e da loro apprenderemo eventuali suggerimenti, indicazioni legittime e critiche. Saremo in mezzo alla gente, fra la gente, come siamo sempre stati durante il nostro percorso umano e istituzionale. Grazie e buon lavoro. Grazie.